Allora, innanzitutto c'è da capire, come ho detto prima, in che cosa, cioè che cos'è che la spaventa l'utilizzo di quelle ore, perché? Perché ripeto, dipende molto da quello che noi facciamo con il cellulare, ok? Poi, cosa fare è un po' quello che ho detto prima, iniziare a vedere proprio come tu utilizzi il dispositivo, le varie applicazioni, eccetera, eccetera, quali sono realmente necessarie e quando è realmente necessario aprirlo, punto primo. Poi abbiamo anche un altro deterrente che possiamo utilizzare, che è un deterrente molto bastardo, però funziona, ossia, allora, chiunque si occupi appunto di UX design, user experience design, sa benissimo che meno passaggi devo fare per compiere un'azione e più io sono invogliato a farla, ok? Ad esempio, se io per ricondividere un post mi basta un click, sono più invogliato a farlo rispetto a che se me ne servissero due di click, il doppio passaggio, e più aumento passaggi e meno è probabilmente che compia quell'azione, ok? Ok, allora, i designer sfruttano questa cosa che è proprio della nostra mente, in che modo? Riducendo il numero di passaggi necessari all'utilizzo delle loro piattaforme, ok? Noi possiamo utilizzare questa cosa anche al contrario, ossia imponendoci dei passaggi in più, ad esempio, ad esempio, proprio meccanicamente parlando, se è necessario disinstallare l'applicazione di Facebook e provare, sperimentare, non abbandonare Facebook, ci torniamo su Facebook quando vogliamo, ma dal browser del cellulare, perché? Perché il browser del cellulare, Facebook appunto, che non è fatto per il browser dei cellulari, è meno usabile rispetto all'applicazione, carica un po' più lentamente i post, insomma, è un po' più macchinoso, diciamo, l'esperienza non è fluidissima, come con l'applicazione, questo ci può aiutare a farci desistere quando aprire Facebook in quel momento non è estremamente necessario. Quindi utilizzare all'inverso, diciamo, l'esperienza che facciamo dello strumento stesso, insomma, dell'user experience, come dicevi, usarlo al contrario. A parte che, permettimi una battuta, ma soprattutto se abbiamo gli Android, perché hanno una gestione della memoria differente, dei processi, eccetera, eccetera, una volta che disinstalli proprio l'applicazione di Facebook, come minimo la batteria ti raddoppia, perché sì, perché ovviamente Facebook a momenti è peggio di Google, che sta a vedere ogni seconda cosa facciamo con il suo cellulare, dove siamo, risucchia un casino. Quindi ci conviene in tutti i sensi. Sì, allora, se poi noi siamo veramente ultra spaventati da come utilizziamo il cellulare in questo caso, esistono anche quei cellulari che vengono ormai definiti, proprio ironicamente, in quattro posizioni agli smartphone, stanno nascendo i dumb phone, cioè i telefoni stupidi, non più intelligenti. Ossia, sono quei telefoni che fanno molto vintage, in effetti, che hanno memoria scarsissima, sono molto più lenti rispetto al Samsung di ultima generazione, e via di questo passo, e che permettono l'installazione di quattro cose messe in croce, tipo i WhatsApp, tipo, ok. Quindi, che cosa vuol dire? Noi ci obblighiamo a dover consultare, ad esempio, i social network, queste piattaforme, magari da un computer, oppure dal tablet di casa. Quindi, mentre siamo in giro, siamo riparati, perché sappiamo che anche volendo il suo cellulare non ce lo permetterebbe. Addirittura, io conoscevo addirittura manager che facevano così.